Non credo che a Ugolina faccia piacere che io venga qui. Sembra che i romani stiano sorvegliando qualcosa di molto prezioso lì dentro. Preparati, Fernando! Diamo fuoco a qualche nave romana! Ehi, Ugo! Le pietre che ci stanno catapultando addosso sono più grosse del cannon cruiser! Volevo fartelo notare! In avvicinamento! 35 gradi ovest! Faresti meglio comandare una gondola! A dritta, capitano! A dritta! Sturati il sale dalle orecchie e fai attenzione! A poppa, Ugo! Ci stanno assaltando! Difficile nuotare con l'armatura, eh? Vento in poppa, velieri! Questo dovrebbe tenerla insieme ancora per un po'. Oh! Darò una lezione a questa marmaglia dei mari! Pista! Stiamo arrivando! Arrendeteli pacificamente o vi collerò a picco! Yuhu! Ancora munizioni per randellare i cattivi! Credi forse di poter spaventare un troll? La caduta tuta di Roma! In arrivo a ore 4! Il fatto che tu abbia le ali non significa che stiamo volando, Fernando! E non si dice a ore 4 quando si naviga! Si dice a poppa! Salutate il troll conquistatore! Ora non ci sono più scuse, Ugo! Siamo carichi! Io sono un sostenitore del riciclaggio dei nemici! Ho detto in arrivo! Non chiacchiera! Ehi! Sono il capitano di questa nave! E chiacchiero quanto mi... Fernando! Ehi, Ugo, arrivano da nord, sud, est e ovest! Questo gli servirà da lezione! Buona notata, amici! Approfittate per fare esercizio nel dorso! Questo dovrebbe tenerla insieme ancora per un po'. Occhio alla poppa, Capitan Ugo! Si avvicina una piccola flotta che sembra estremamente ostile! Ugo, ci servono dei relitti per riparare la nave! Io sono un sostenitore del riciclaggio dei nemici! Sono pazzi questi romani! Ah-ah! Ottime munizioni! E' proprio quello che ci serviva! E se chiedessimo semplicemente dove possiamo trovare la statua? Questo sistema non sembra promettere bene da quassù! Da questa parte, Ugo! Relitti! In avvicinamento! 35 gradi ovest! Paresti meglio comandare una gondola! Doppie munizioni! Dove sono quei vigliacchi? Difficile nuotare con l'armatura, eh? Vento in poppa! Velieri! Questo dovrebbe tenerla insieme ancora per un po'. Pista! Stiamo arrivando! A dritta, capitano! A dritta! Sturati il sale dalle orecchie e fai attenzione! La caduta di Roma! Ah-ah-ah-ah! Ma poppa, Ugo! Ci stanno assaltando! Oh! Darò una lezione a questa marmaglia dei mari! Arrendeteli pacificamente o vi collerò a picco! Salutate il troll conquistatore! Salutate il troll conquistatore! Questo gli servirà da lezione! Buona notata, amici! Approfittatore per fare esercizio nel dorso! Uh-uh-uh! Hm, credi forse di poter spaventare un troll? Ugo, ci servono dei relitti per riparare la nave L'ultima nave è affondata Mi chiedo cosa stessero sorvegliando L'ultima nave è affondata Oh, la mappa della tomba di Duna Un momento, c'è ancora una statua Un momento, c'è ancora una statua